Vitamina C, aumenta le difese immunitarie, aiuta anche contro la stanchezza, fa bene anche per chi è stressato, anche per non prenderci raffreddori, e malanni stagionali, visto che adesso andiamo contro il freddo, è un prodotto prime, buona la qualità prezzo. Vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon. Grazie.